Benvenuti a questa 257esima edizione del palo a mare, palo a mare. Come potete notare ci sono i nostri concorrenti che stanno percorrendo il palo in tutta la sua lunghezza con sparto di grasso, via via levando il grasso dal suddetto palo. Ecco che arrivati a un certo punto il grasso li tende a far scivolare ed arrivare lì. Il vincitore sarà il problema più tardi, mangerà una guantera di grasso e grossa di circa così. Questo non è il vincitore. E l'anno prossimo ci ritenderemo. Vado a mettere più di tutto questo? Taglialo? Sì, sì, va bene. No, l'ho detto a ieri perché senti io che dico taglialo, quindi. Ma che poi lo metti? Certo che poi lo metti. Poi paglialo si fa domandare che ti ho fatto prima. Sì, eh. Ah, sì, ok. Vado a fare. Lontana, però che si spiegherà. Allora, vedi. Lontana, minimo a 6-7 anni. Quanti anni hai? 12. 20. 20. Sì, 30. Ah, bravo. La costina pure, però, non puoi per amare. Guarda, guarda. Ti ho messaggi, ti ho messaggi. No, io ce l'ho dei massaggi. Io non faccio mai. Io non faccio mai. Poi io e te dobbiamo parlare. Sto riprendendo. Ah, scusa, poi leva l'audio. Mettigli la musica. E parliamo, adesso mi stai ripetendo, non ci vedi. Sì, è il sonido. Mi chiorano io che mi tocca, ma no. Mi tocca, perché non mi tocca nel oggi nel go. Mettigli la musica. Mettigli la musica.